Eccoci! E come sempre ragazzi vi chiediamo un aiuto, quindi metteteci un like, fateci una condivisione della live, scrivete un commento, ciao Tony, buonasera, quindi commentate, fateci sapere che ci siete, anche perché tanti nelle nostre live sono nuovi, sono nuovi studenti che entrano dal corso gratuito, quindi magari non ci conosciamo, quindi mettete like, commentate, condividete la live e attendiamo che arrivino queste notifiche, yes Tony, velocissimo, come ha visto la notifica, bam, è entrato. Esatto, anche questa sera ragazzi, siamo io e Luca e le nostre consuete ormai live flash di contenuti. Questa sera sarà molto figa perché parleremo e daremo dei tool veri e propri per iniziare questa attività dell'affiliate marketing, dei tool che, fammi vedere, sì, sono quasi tutti gratuiti, a parte dei servizi che per forza devono essere pagati, ma saranno quasi tutti tool gratuiti, alcuni di cui abbiamo già parlato, altri invece che vi andremo a presentare, soprattutto per chi è all'inizio, sono fondamentali, sono gli strumenti fondamentali per crescere, per far crescere il proprio business, la propria attività, per chi invece, come Tony, che è più navigato, sentirà solo ripetere cose che magari conosce, che però non fa mai male. Quindi, specificatamente, cosa diciamo stasera a Luca? Allora, intanto ciao Roberto, ciao Daniele, stanno entrando anche altre persone, comunque sia, parliamo appunto, come ho anticipato anche mai, con alcuni strumenti che sono utili, che da mettere nella vostra, io la chiamo cassetta degli attrezzi di noi marketer, no? Che servono appunto per andare a creare tutto quello che poi è il nostro lavoro. Quindi io diciamo che partirei immediatamente con un ordine, no? Noi quando andiamo a fare, a lanciare una campagna, o a creare dei contenuti, che facciamo? Facciamo semplicemente una mind map, no? Quindi una mappa mentale su quello che dobbiamo fare. La prima cosa che c'è da fare, quando andiamo a prendere un prodotto, quindi, ok, ci piace, che non so, un orologio, vogliamo andare a vendere un orologio. La prima cosa che facciamo, ovviamente, è andare a vedere se, effettivamente, nella lista di prodotti che noi vogliamo vendere, magari ne adocchiamo tre, quattro, andiamo a vedere quale dei quattro, magari, è quello più ricercato, no? Quindi che si fa? Si fa il primo strumento, che è quello proprio di Google Trend. Google Trend è uno strumento, appunto, come ha anticipato anche prima Maucol, questa sera saranno maggior parte strumenti gratuiti, alcuni sono servizi che per forza vanno pagati, però... Scusa, Luc, facciamo anche una piccola parentesi. I primi tre ne abbiamo già parlato nella live più approfonditamente, nella live di venerdì sera, ma ci teniamo a ricordarli e a risottolinearli, perché veramente, ragazzi, è lo step, è il primo gradino. Quindi ne abbiamo parlato venerdì, oggi vogliamo... Luca ve li sta appunto ripresentando, perché? Perché sono fondamentali, sono veramente la base. Vai, Luc, scusa. Assolutamente sì, ma questa sera li presentiamo anche con un ordine un po' logico, no? Di come, diciamo, va fatto da quando noi adocchiamo il prodotto a quando poi noi andiamo a lanciare, diciamo, no? Quindi, ecco, il Google Trend, diciamo, è uno dei... è il primo step che si fa. Si va a cercare il nome del prodotto o similari, perché all'interno di Google Trend non si va solo a cercare il nome del prodotto, ma si va a cercare anche il similare. E non si va a cercare soltanto nella categoria ricerca, ma anche nella categoria acquisti. Quando voi fate una ricerca su Google Trend, specificate entrambe le ricerche, sia ricerca normale, quindi tutte le categorie, nella bandierina che trovate, ma anche acquisti. Perché? Perché se voi andate acquisti e avete un forte trend sugli acquisti, diciamo che è un prodotto più caldo rispetto a un prodotto tanto in trend nella sezione tutte categorie. Potrebbe essere anche semplicemente oggetto di curiosità, perché andiamo a vedere magari una ricerca su Google, ci interessa quella cosa, no? Curiosità, ok, digitiamo il nome del prodotto o quello che ci interessa e andiamo a vedere qual è il trend, no? Diciamo che sulla ricerca semplice, su tutte le categorie, troviamo tutti i trend, però se andiamo nello specifico sugli acquisti, possiamo magari trovare un prodotto caldo dal punto di vista degli acquisti, dato che a noi ci interessa comunque sia quello di creare il contenuto per andare a vendere successivamente, no? Quindi l'acquisto, diciamo, che è quella, la cosa più importante. Successivamente, una volta andato a determinare, mi soffermo un po' di più su Google Trend, Michael, eh? Andato a determinare il prodotto con il trend più alto, sotto, se scorriamo sotto Google Trend, ci sono, diciamo, delle catalogalizzazioni, mi piccio anche, per quanto riguarda la geo, quindi possiamo andare a vedere anche le varie regioni, possiamo andare a vedere anche quelle che sono le query. Le query non sono altro che la lista delle parole che le persone ricercano all'interno di Google, quindi quando noi andremo a mettere, che ne so, crema su Google, a noi ci, magari ci può anche andare, ehm, sotto ci appare anche altri suggerimenti, no? Anche altre cose che magari potrebbero essere o suggerimenti di Google, oppure semplicemente altre persone che vanno a digitare la stessa cosa. E quelle sono le query. Dalle query possiamo anche andare a cercare un prodotto più nello specifico, quindi riproporre la stessa query sulla ricerca di Google Trend e vedere il trend di quella query in particolare. Diciamo che, per quanto riguarda le query, che non sono altro che le quote di ricerca, è più nello specifico quando si va a lanciare una Google Ad, piuttosto che una Facebook Ad, anche se comunque sia ti dà un trend di ricerca, un trend di prodotto caldo o freddo, che comunque sia serve per la nostra. Scusa, Luke, traduco anche magari per chi è nuovo, le query sono fondamentalmente delle frasi, ragazzi. Una serie di parole, come quando digitate sulla barra di ricerca di Google, non fate in tempo a finire una parola, una ricerca, che Facebook vi propone già delle query, ok? Quelle sono le query. Lo stesso risultato che avete dentro Google Trend. Vai, Luke. Assolutamente sì. Ecco, una volta parlato un po' più di Google Trend, andiamo a presentare quello che è un secondo strumento che serve appunto più incentrato su quello che è proprio il Facebook Advertising. Quindi ecco, andiamo ad analizzare la D-Library. Ora non so se voi la conoscete, non so se qualcuno ovviamente qui conosce, però la D-Library... Vediamo in chat chi già la conosce, se c'è qualcuno che la utilizza. Tony, sicuramente, Alessio, ok. Già lo sappiamo. Però fateci sapere. Esatto, intanto, vai Luke, intanto raccontiamogli che cosa possiamo fare di così prezioso, perché è così importante. Ok, la D-Library è molto importante perché una volta determinato il prodotto, si va a fare una ricerca di quello che noi cerchiamo su Google Trend e lo cerchiamo nella libreria di inserzione di Facebook, che ci dà una lista di pagine, oppure una lista di ad, dove le persone hanno lanciato, quindi possiamo andare a vedere quello che fanno magari i nostri competitor, per esempio, la linea di l'angle che hanno magari preso per andare a pubblicizzare un prodotto, possiamo andare a vedere la creatività che hanno usato, possiamo andare a vedere il copy, possiamo andare a vedere tante cose che poi servono appunto per andare a fare una cosa similare, ma io vi consiglio sempre, come abbiamo detto all'inizio, di non copiare mai quello che trovate sul web, ma metterci sempre il vostro e il vostro stile, perché Facebook se ne accorge quando copiate, e se copiate ovviamente vi penalizzano, neanche avete spinto il tasto pubblico. Diciamo che Facebook Library, l'Ad Library, è uno spy tool, quindi uno strumento per fare spying, molto semplice, quindi non ha tantissime, non ci dà tantissime informazioni come uno spy tool a pagamento, ma è il primo strumento veramente che ci dà un sacco di informazioni in maniera gratuita, e sono informazioni preziosissime, perché noi oggi siamo qua a parlarvi di affiliate marketing, quindi possiamo andare a vedere le pagine che sappiamo, perché attraverso delle ricerche che noi abbiamo già fatto, sappiamo stanno vendendo un prodotto come il nostro o anche un prodotto simile, possiamo andare a vedere uno se stanno facendo pubblicità, quante ne stanno facendo, grossomodo, comunque sappiamo su che pulsante, su che tasto stanno spingendo, quindi è super prezioso, perché anche in ottica di ottimizzazione del budget, se io ho un'idea di una creatività, di un copy, eccetera, e vedo che ho dieci competitor, e tutti questi dieci competitor hanno tutti la mia stessa idea e spingono tutti sullo stesso pulsante, magari cercherò di farmene venire una diversa, per fare un lavoro diverso da loro, o possiamo anche capire magari se alcune strategie non funzionano, insomma, è super super importante ad library, è fondamentale, soprattutto quando si parla di affiliate, ma anche non, perché come diciamo sempre, gli strumenti dell'affiliate poi sono strumenti che ci portiamo anche magari nei nostri business privati, o nel senso, nelle nostre aziende, o nelle nostre attività di tutti i giorni, quindi immagino il ristoratore che vuole vedere, fammi vedere quel ristorante là che lavora tanto, so che fa le serate, voglio vedere come se sta facendo pubblicità, o io ho un negozio, insomma, tutte queste strategie poi si possono portare ovviamente anche al mondo fisico, noi le utilizziamo soprattutto per l'affiliate, ma nessuno ci vieta di utilizzarle anche in altri ambiti fisici e più local, ecco, diciamo così. Assolutamente. Perfetto, poi Luca. Una volta ovviamente determinato quello che è i nostri compagni, ho fatto la ricerca di mercato, Google Trend, comunque sia, anche la, ecco, in questo momento abbiamo parlato della D-Library, possiamo andare subito, diciamo, a fare una piccola ricerca, non, diciamo, continuare la nostra ricerca di mercato, ma non più sul prodotto, ma sulle persone. E su questo, in questo momento, in cui in questa azione ci aiuta molto Audience Insight di Facebook, se voi non lo, non lo conoscete o lo conoscete, sempre scrivete... Luca, però, scusa Luca, dimmi, dimmi. Ma siamo sicuri che vogliamo dirgli tutto questo, senza che condividano nemmeno le dirette? Eh, infatti io ora rallento finché non vedo, non commentate di più, io rallento. Commenti e condivisioni, raga. Vi stiamo dando una lista di tool, quasi tutti gratuiti, vi stiamo spiegando come utilizzarli per ottimizzare le vostre vendite o per vendere, per chi ancora non è iniziato. Quindi, la condivisione è il minimo. Il like ormai lo diamo per scontato e anche il commento, quindi mi raccomando. Assolutamente, sì, dai, riprendo un po' più lentamente. Dai, iniziamo a dirgli qualcosa dell'insight, dai. Vabbè, comunque, l'audience insight serve appunto per andare a fare una ricerca non più del prodotto, ma dell'audience, quindi quello che a noi interessa come pubblico, dove andare a sponsorizzare, ovviamente, il prodotto che noi vogliamo vendere. Qui che possiamo fare? Possiamo fare dei test per vedere effettivamente quanta copertura di pubblico ci c'è in un determinato interesse o in più interessi composti, perché noi possiamo mettere anche più di un interesse su Facebook quando noi andiamo a lanciare una pubblicità. Ecco, una cosa importante è proprio questa degli interessi e del pubblico, perché in base a quello che noi mettiamo, età, interesse e tutto quanto, Facebook va a calcolare, quindi ci va a fare un pubblico del nostro audience, quindi proprio il pubblico che noi abbiamo scelto e cosa, diciamo, può piacere anche a questo pubblico. Ora, io vi dico anche quest'altra cosa che è un po' più avanzata, però comunque sia, queste live sono anche per dare un po' di valore, comunque sia, nell'audience insight, una volta che avete messo tutti quanti i vostri interessi, se voi andate sulla stringa e mettete mi piace alla pagina, potete andare a vedere il vostro target che avete scelto, quindi non so, ok, dobbiamo vendere un prodotto per le donne, quindi un prodotto di bellezza, mettiamo, ecco, non so, una crema idratante, per dire, possiamo mettere degli interessi per quanto riguarda ovviamente il campo delle creme, successivamente possiamo andare, ora mi è da ridere perché ho letto il commento di Alessio. Se non condivido non lo so. Comunque, una volta che abbiamo messo questi interessi, noi andiamo a destra sulla pagina, sul mi piace alla pagina, possiamo andare a vedere a quel target quali pagine va a seguire, quindi possiamo andare a vedere quelle pagine che possono essere abbigliamento, potrebbe essere anche, non so, anche, che ne so, Eves Rocher, che sono comunque grandi marchi, tante altre cose, se noi andiamo all'interno di quelle pagine, ovviamente ci sono dei contenuti, e se quei contenuti hanno un alto riscontro di interazione, quindi piace al pubblico, e se quel pubblico è proprio all'interno di quegli interessi, quegli interessi piace quella pagina, vuol dire che i contenuti all'interno della pagina posso seguire una linea guida per andare a fare le mie creatività, il mio copy, per andare a sponsorizzare poi il mio prodotto. Diciamo che questo è un altro modo di intravedere quello che è l'audience insight, che appunto non è solo il salvare il pubblico, ma anche andarlo a cercare cosa piace al nostro pubblico, come posso proporgli un prodotto. Successivamente all'audience insight c'è poi uno strumento che serve appunto per conciliare quello che è la teoria, quindi a quell'audience piace questa cosa, ok, però devo andare a creare il contenuto con questa cosa, quindi per andare a creare la prima cosa che si fa è diciamo una creatività, la creatività della nostra pubblicità e uno strumento che ci viene in soccorso è Canva, che è un altro strumento gratuito insieme a audience insight, insieme a google trend che comunque sia va a creare tutto quello che sono le immagini che poi serviranno per le vostre creatività e le vostre pubblicità. Canva è uno strumento gratuito, ha tantissime funzioni tutte gratuite, una volta che avete preso di dimestichezza il mio consiglio è di passare comunque al pro, perché il premium al pro, che è l'abbonamento a pagamento diciamo, vi dà delle cose. Diciamo Luca che è a pagamento ma per modo di dire perché costa veramente due soldi, parliamo di 12 euro al mese, l'abbonamento annuale costa pure di meno ovviamente, quindi se lo utilizzate spesso veramente vi porta via un sacco di tempo in determinate operazioni, quindi costa veramente poco, insomma ce lo possiamo permettere tutti. Abbiamo già parlato in una live settimana scorsa ma come ripetavamo sono tutte nozioni importantissime per chi è all'inizio che ci fanno risparmiare soldi, ci fanno risparmiare tempo e anzi ce ne fanno guadagnare anche perché ci permettono di avere un prodotto e quindi una creatività delle grafiche veramente ben fatte con un risparmio appunto di tempo e anche di pratica perché sono semplicissime a utilizzare senza andare a appoggiarsi magari a dei professionisti che hanno che ti fanno le grafiche con Photoshop eccetera e poi voglio dire un'altra cosa poi lascio continuare Luca Alessio scrive ma ve lo meritate? perché lo scrive? perché Alessio giustamente sa che tutte queste informazioni lui come anche noi le abbiamo imparate negli anni non gratis ma come utilizzare al meglio Google Trend come utilizzare al meglio l'Ad Library Facebook l'Insight per andare a vedere gli audience e i pubblici sono tutte strategie e strumenti che sì ok sono gratuiti però quanti sanno che esistono quanti sanno utilizzarli con un fine appunto di ottimizzare le vendite o di fare più vendite noi oggi siamo qua a dirvele gratuitamente ma vi posso assicurare che a noi non ce le hanno dette gratuitamente le abbiamo dovute pagare abbiamo dovuto impararle in dei corsi di formazione che ovviamente non erano gratuiti perché un conto è sapere che uno strumento esista un altro discorso invece è capire come utilizzare questi strumenti come sta facendo oggi Luca vi sta dicendo tutto voi a fine della live potete andare a digitare tutti questi strumenti andare a vedere come funzionano e sapete già qual è il vostro focus su quello strumento sapete qual è l'obiettivo che potete raggiungere con quello strumento e tutto questo ragazzi ve lo stiamo dicendo gratuitamente che in aggiunta al corso free che abbiamo lanciato ormai cosa sono due settimane fa ci danno veramente un background tecnico un background operativo pazzesco per iniziare a spaccare e comunque per iniziare a fare le prime vendite e a vedere i primi risultati quindi tanta roba ragazzi tutto questo contenuto gratuito Luca vai ti ho interrotto hai fatto bene a me mi riposo anch'io un pochino comunque sì ecco per quanto riguarda appunto Canva che è lo strumento che lo conosciamo tutti abbiamo come ha detto Michael è stato già ampiamente menzionato poi la parte premium che è la parte pro quella a pagamento è veramente un costo erisorio ma vi sblocca un altro mondo vi sblocca tutti gli effetti vi sblocca e ricordate anche tutte le immagini pro premium molto business sono immagini molto business molto utili per chi fa il nostro lavoro assolutamente sì e un'altra cosa sono gli effetti e voi ricordatevi che Facebook piacciono le novità quindi un effetto diverso un effetto magari da provare da testare che non si vede in giro che può piacere l'utente e la chiave vincente che vi fa esplodere la vostra ad potrebbe anche essere semplicemente un fattore di creatività di colori di quant'altro non solo di angle per quanto riguarda poi gli altri gli altri componenti della della lista un altro ovviamente una volta fatto Canva abbiamo parlato di creatività è appunto abbiamo uno strumento per le immagini ancora dai vai 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 sì ok per quanto riguarda le immagini visto che abbiamo comunque sia menzionato Canva se non avete ancora il pro c'è la soluzione per ancora prolungare il vostro non comprare il pro che è appunto unsplash ora lo scrivo nei commenti esatto unsplash è un archivio di foto gratuito copyright free quindi senza copyright che voi potete tranquillamente utilizzare per le vostre pubblicità per le vostre ad diciamo potete mettere le vostre foto sound unsplash su Canva modellarle scriverle mettergli il prodotto adattarli a quello che è il vostro marketing uno copyright free ragazzi quindi le potete utilizzare copyright free d'accordo sì senza copyright non vi romperanno mai le scatole per questa per le foto di unsplash e quindi diciamo che questi due strumenti unsplash e Canva vanno a braccetta all'interno di unsplash potete anche trovare dei mini video una volta c'erano però comunque sia c'è veramente tanta tanta roba all'interno di di quell'archivio che è totalmente gratuito anche qua ragazzi ce ne sono tanti non è che esiste solo unsplash noi vi diciamo unsplash perché se uno utilizza strumenti gratuiti vi diciamo che unsplash è una di quelle piattaforme dove si trovano più contenuti di qualità più immagini di qualità ce ne sono tanti altri ma magari sono meno ricche sono meno di qualità e magari anche incentrato su ciò che noi facciamo perché facciamo affiliate marketing quindi non abbiamo blog dove dobbiamo mettere immagini di storie raccontate abbiamo magari bisogno necessità di determinati stili di immagini poi questo dipende un po' da ognuno come lavora ma io e Luca ci siamo resi conto che per come per lavorare gratuitamente senza magari passare a piattaforme che ti danno immagini appunto con degli abbonamenti unsplash è lo strumento che ci ha aiutato di più vai Luke assolutamente sì l'altro strumento in cui passo subito è appunto Elementor una volta creato la nostra creatività c'è da diciamo da andare a creare la nostra landing page quindi la nostra pagina d'atterraggio dove poi andiamo a mettere tutto quello che è il prodotto quindi la descrizione anche del prodotto anche riprendere un po' il hang on della nostra ad all'interno e poi la cosa più importante che ha la landing page è la call to action che è quella che fa fare al cliente quindi il form per quanto riguarda l'ordine oppure un acquisto tutto quello che si possono diciamo fare i pagamenti su la landing page diciamo che portiamo il cliente all'acquisto sulla landing page e qui può aiutarci Elementor Elementor ovviamente è un plugin di WordPress ed è installabile tranquillamente ci sono si possono fare tantissime cose su WordPress ma veramente veramente tante ci sono anche la versione free che è quella più base ma ci sono anche la versione la versione a pagamento che diciamo che se dovete investire su Elementor investiteci assolutamente perché vi servirà e vi renderete conto che è uno strumento che è veramente essenziale non ci sono altri strumenti per mio parere migliori rispetto a Elementor anzi se posso aggiungere anche una cosa se volete se qualcuno è interessato a Elementor vuole il link ci può contattare direttamente in chat può contattare Giuseppe che vi gira il link vi gira il link di Elementor così vedete quali sono i suoi piani come funziona vorrei aggiungere che è una piattaforma estremamente semplice estremamente facile tanti che ci seguono lo sanno Alessio Tony insomma lo sanno benissimo è veramente una volta che sapete utilizzare è come utilizzare un word solo che al posto di scrivere e di trascinare fare copia e incolla prendete degli elementi col mouse li trascinate e li spostate sulla vostra pagina web quindi è veramente customizzabile il vostro sito la vostra landing page è completamente customizzabile e vi permette soprattutto cosa importantissima di lavorare sia su mobile che su pc però vi consente appunto di costruire la vostra landing page con un'interfaccia mobile quindi vedete come nel telefono sarà visualizzata con un click costa veramente pochissimo ed è uno strumento che vi permette di costruire vi landing page costruire vi siti web costruire vi blog veramente facile e con delle automazioni e dei meccanismi che sono la fine del mondo ragazzi perché vi fanno anche qua vi fanno risparmiare un sacco di tempo perché è semplicissimo sono Elementor è uno dei tantissimi strumenti che oggi abbiamo a disposizione sul mercato che ci consentono di risparmiare tempo anche qua denaro e e anzi ottimizzare il nostro business e il nostro marketing Elementor ho detto vai assolutamente gli ultimi due strumenti sono rimasti che ovviamente sono non meno importanti ma sono a braccetto con Amlementor perché una volta che ha dato il landing page come facciamo a farla visionare comunque sia al nostro pubblico c'è bisogno appunto di un hosting e di un dominio quindi spieghiamo un pochino bravo per i newbie assolutamente dominio ragazzi è semplicemente quello che vedete in alto è www.michael.com ok questo si chiama dominio l'hosting invece appunto dalla traduzione inglese ospitare è quel servizio che mette a disposizione diciamo mette a disposizione dei server affinché io che sono dall'altra parte del pc clicco digito sul web devo avere delle strade digitali che portino al mio sito internet chi mette a disposizione questi canali questo servizio queste strade digitali l'hosting ok quindi abbiamo il nome del sito che è il dominio io acquisto il mio è come acquistare un logo diciamo come acquistare il mio nome ok il nome del mio brand acquistiamo appunto questo dominio che rimarrà a me e poi abbiamo il servizio di hosting che li mette in comunicazione e fa sì che il traffico web possa arrivare questo è un servizio che è a pagamento ed è molto importante ragazzi è molto importante perché sul web troviamo un sacco di servizi troviamo servizi hosting veramente a due soldi che con 30 euro l'anno ci danno in teoria ci mettono a disposizione dei servizi che ve la raccontano in tutti i modi poi le pagine web non si caricano quindi la mia landing page compare si carica dopo 20 secondi e quindi il mio contatto il mio lead il mio acquirente cliente scappa chiude perché dopo 20 secondi che attende la pagina non si è caricata se ne va quindi voi pagate di te ho trovato un servizio hosting che mi costa poco si ok però quanti soldi ti fa perdere o meglio quanti soldi non ti fa guadagnare perché oggi ricordiamoci che l'utente la user experience è fondamentale quindi se io sono lì e sto scrollando la mia home vedo un annuncio che mi piace ci clicco e dopo 10-3 secondi ancora non visualizzo l'offerta basta me ne vado torno indietro e clicco su un'altra offerta quindi non sottovalutate l'hosting perché è un errore che tantissimi fanno ve lo posso garantire perché l'ho fatto anch'io andare a comprarmi hosting da 30-35 euro l'anno e poi avere problemi di accesso non autorizzato veramente ci sono un sacco di problemi che stanno dietro ai servizi hosting quindi il nostro consiglio è fate le vostre valutazioni ma sappiate che meglio spendere che poi non parliamo di grosse cifre una cifra magari un pochino più consistente ma ripeto parliamo di piccole cifre piuttosto che andare su questi servizi che vi promettono 30 euro di tutto e di più e poi invece non è per niente funzionale non è per niente funzionale quindi stavamo dicendo del hosting diciamo che le hai dette entrambi nel parlare no però non ti preoccupare ok i nomi sono per il dominio registr.it assolutamente e per quanto riguarda gli hosting scala hosting che comunque sia uno dei migliori a nostro parere al nostro gusto anche di hosting per quanto riguarda appunto i nostri siti una volta che si ha l'hosting si va a collegare il dominio che poi si punta alla nostra landing tramite i DNS e una volta propagati ora parlo un po' più tecnico ma è più facile vederlo che diciamo a dirlo e sul corso free si vede chiaramente abbiamo anche comunque sia esposto entrambi questi due strumenti sul corso free sia register.it che scala hosting e c'è proprio un video del buon Michael che fa vedere proprio come si collegano all'interno del per quanto riguarda le nostre le nostre landing ecco questo comunque sia sono gli strumenti che servono per andare a proprio a a mettere nella vostra casetta gli attrezzi prima ovviamente di iniziare un qualsiasi lavoro quindi qualsiasi è prima gli strumenti poi con gli strumenti si va a modellare tutto quello che è il discorso delle ad si parte dalla ricerca di mercato creazione del contenuto creazione dell'ad creazione del landing page e via discorrendo fino alla al lancio allora abbiamo una bella domanda di Marika Esposito che differenza c'è tra site ground e scala hosting ma allora ti posso rispondere perché ho esperienza personale di entrambi io ho sempre utilizzato site ground che per chi non lo sapesse è uno dei servizi che oggi troviamo sul mercato è uno dei servizi diciamo più conosciuti ha anche dei piani molto diciamo ha dei prezzi abbastanza alti sicuramente offre un buon servizio però allora negli anni io mi sono accorto che con site ground ho riscontrato diversi problemi che ognuno può avere può riscontrare diversi problemi però ho avuto problemi di sicurezza quindi tante volte ho ricevuto email dove mi dicevano che i miei dati erano stati violati dove non riuscivo più ad accedere al mio sito quindi dovevo contattare l'assistenza l'assistenza comunque è stata capace di risolvere i miei problemi però visto la grande magari finché uno ha uno o due siti web come dicevamo bene il discorso il problema magari passa in sordino ma quando iniziamo avere già dieci quindici venti siti web e questi problemi avvengono non dico con frequenza regolare ma avvengono diciamo che uno inizia a guardare anche ad altri strumenti le caratteristiche dei piani sono le stesse noi ci sentiamo visto la mole di lavoro che abbiamo alle spalle di consigliare Scala Hosting appunto per affidabilità e qualità prezzo hanno noi utilizziamo ovviamente lo stesso servizio con i siti unlimited website quindi possiamo aggiungere tutti i siti web che vogliamo lo spazio di archiviazione non abbiamo grossi problemi quindi insomma ci troviamo bene con questo servizio se qualcuno interessato appunto vuole capire un pochino meglio come funziona Scala Hosting può contattare direttamente Peppe sempre il nostro magico Giuseppe in chat che vi da il link e potete vedere però vai vai guarda volevo rispondere anche un'altra domanda allora secondo voi può essere può essere utile l'utilizzo di keyword tool allora per quanto riguarda le keyword tool noi abbiamo esposto google trend google trend diciamo non è altro che appunto un ricercatore di tra virgolette parole chiavi tra virgolette perché perché va diciamo ad analizzare quelle che sono in realtà le ricerche ma le keyword non sono altro che le parole che gli utenti mettono all'interno della stringa di ricerca di google diciamo che una keyword può essere analizzata anche tramite google trend però è utile l'utilizzo di un strumento di keyword tool ovviamente se ovviamente siete leggermente più avanzati quindi se siete all'inizio utilizzate semplicemente google trend che vi dà già diciamo una grandissima mano una grandissima scrimatura proprio per la scelta del prodotto se invece volete andare proprio sullo specifico avere un keyword tool ovviamente gratuito si va a fare un'analisi delle keyword tramite la strumentazione della pianificazione delle parole chiavi su google ad word però quello è lo strumento di google ad che è comunque diverso da un google trend però è così potrebbe la risposta è sì potrebbe essere comunque è sicuramente profittevole però se siete all'inizio andate sullo base prendete dimestichezza e poi andate avanti piano piano senza magari confodervi troppo le idee inizialmente poi un'altra piccola domanda ha le immagini gratuite non non pro di canva esatto non pro di canva sono copyright free assolutamente sì perché sono prese all'interno sono diciamo pescate da da depositi foto gratuiti senza copyright quindi potete tranquillamente ultima domanda ad ora è sempre Mareca sto guardando sul sito Scala Hosting l'assistenza in inglese yes l'assistenza in inglese al contrario invece di site ground però ti posso anche dire che l'assistenza sono super abituati ad avere utenti che non parlano che non parlano l'inglese e cosa consigliano sono loro i primi a consigliarlo google translate tanto parliamoci chiaro per le richieste che uno può fare di solito sono richieste quando parliamo di servizi hosting che in un paio di mail si risolve perché non stiamo parlando di grandi di grandi scambi di mail quindi se uno non mastica proprio l'inglese non ce la fa esiste google translate che italiano inglese è molto performante per le richieste appunto di cui parliamo non c'è assolutamente nessun problema ragazzi cioè se poi consiglio ovviamente che tutti oggi danno se riuscite a imparare anche un po' di inglese male non fa soprattutto nel mondo online all'infuori dell'affidate all'infuori dell'affidate però nel mondo online è fondamentale almeno due parole d'inglese o capire saper leggere capire il contenuto insomma siamo proprio è la base nell'affidate e nell'online soprattutto andando in avanti guardando verso il futuro diventerà fondamentale assolutamente questo ovviamente è tutto quanto l'insieme degli strumenti che servono ovviamente per andare ad iniziare il lavoro sull'affidate marketing ora ovviamente per approfondimenti su tutto quanto quello che è questa ovviamente è una base quindi un'infarinatura di quello che è questo mondo dietro è diciamo la punta dell'iceberg c'è veramente un mondo infinito dietro e per approfondire con questo mondo infinito c'è White Shark White Shark è proprio il corso che è intensivo sull'affidate marketing che un giorno proprio per un discorso di focus perché un corso che dura tantissimi mesi può far perdere il focus alle persone soprattutto a livello di pratica perché perché io magari faccio una lezione dove posso riprenderla solo dopo un tot di tempo io magari in quel momento non ho fatto pratica non sono riuscito perché magari non ho capito bene determinate cose e quindi ho lasciato lì quando vado a riprendere un'altra lezione troppo tempo dopo succede che io mi sono dimenticato le cose precedenti quindi devo andare a perdere tempo a rivedere delle mie cose e quindi diciamo che è stato fatto appunto in un giorno intensivo dove si entra la mattina e si esce la sera che siamo affiliati e siamo veramente sappiamo veramente ma veramente lavorare esatto ma lavorare bene lavorare bene ottenere risultati che è la cosa più importante che noi vogliamo ovviamente per voi per quanto riguarda White Shark sempre in aiuto il nostro Giuseppe Pepe lo potete tranquillamente eccolo qui lo potete tranquillamente contattare in privato assolutamente vi sentite con lui e lui ovviamente vi dà maggiori informazioni per quanto per quanto riguarda veramente un'occasione fosse stata tantissimo tempo fa diciamo che mi sarei sparmiato tantissimo tantissimo tempo e mi raccomando scriverli perché è veramente una cosa mai vista prima poi esatto soprattutto perché l'obiettivo appunto di questo corso è stato tutte le informazioni concentrare un team in un luogo solo per appunto focalizzarsi su quello che è l'affiliate marketing e tutte le strategie che stanno dietro che stanno dietro all'affiliate quindi entrare la mattina uscire la sera con una base forte per appunto iniziare a lanciare saper leggere quelli che sono i risultati sapere in quali in quali casi iniziare a scalare come farlo sono tutte informazioni che se noi avessimo come è sempre successo come abbiamo sempre fatto spalmato in un arco di sei mesi anzi sono stati anche corsi che sono durati anni io parto oggi e tra sei mesi magari ho completamente perso il focus o comunque ho perso dei pezzi per strada devo tornare indietro devo rifare devo rivedermi quella roba invece concentrare il tutto perché White Shark sarà concentrato in una giornata una settimana dopo invece ci sarà un mastermind appunto con tutto il team dove si andranno appunto a analizzare quelle che sono le possibili strategie che ognuno magari ha nell'arco di una settimana ha elaborato e quindi è un percorso perché White Shark non significa solo fare un corso che dura una giornata e fare un mastermind no ma significa entrare appunto in un gruppo in un gruppo di persone che hanno come obiettivo l'utilizzo dell'affiliate marketing per ottenere risultati ognuno poi ha i suoi obiettivi avere più libertà avere più tempo libero perché questa è una forma di business che ci permette di ottenere questi risultati e quindi con White Shark avete diciamo le chiavi avete le chiavi per per iniziare questo percorso e questo cammino intanto il buon Giuseppe ci scrive anche qua sotto il suo profilo privato per scrivergli con tutte quante le informazioni per accedere non vi fate problemi è apertamente molto disponibile chi sta qua dentro ovviamente in questa live può confermarlo e e basta per questa live è tutto ricordiamo semplicemente gli appuntamenti della settimana domani ci siamo siamo in live io e Emanuele poi mercoledì c'è Shark Shark Pro insieme a inizia Shark Pro insieme anche alla domanda risposte poi c'è giovedì ci siamo io e Michael e poi venerdì Michael ed Emanuele esatto avete sui post tutti quanti gli orari precisi se ci sono ovviamente variazioni ve lo comunicamo in anticipo non vi preoccupate e per questa serata diciamo che abbiamo dato abbiamo dato abbiamo un sacco di vi abbiamo dato un sacco di tool ragazzi tutti gratis andatevi a vedere per quelli che se ne sono persi qualcuno o potete anche in questo caso scrivere a Peppe che vi dà il link e niente siamo a posto anche per oggi vi abbiamo un sacco di materiale su cui concentrarvi grazie ragazzi grazie Luke ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti